Ed eccoci al nostro video pensiero Sì, diciamo, dovrei dire una cosa che non ho detto ieri, cioè mi sono ricordato poi ieri Che però non ho detto per parlare della cosa di cui ho parlato ieri Ma non lo so se ne parlo oggi di questa cosa perché, diciamo, non la vorrei associare alla festa delle donne Non la vorrei associare a quello che faccio tra poco adesso, a quello che dirò tra poco adesso Anche se questa cosa che dirò tra poco in questo momento è una cosa che secondo me dovrebbe farsi tutti i giorni Non solo in questo giorno E cos'è questa cosa? Ovviamente Today I would like to wish a very, 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 very great happy woman's day Tutte le donne, every woman Appunto, come ho detto, in realtà la donna dovrebbe essere celebrata ogni giorno Non credo che, alcune donne non credono alla festa Poi soprattutto in relazione a quello che sta accadendo adesso con la guerra Non credo proprio ci sia molto da festeggiare Ad ogni modo, qualcuno che a volte ha sentito i miei saluti finali ai nuovi membri Cosa faccio spesso? Qua c'è sempre Quando li noto, quando si scrivono e noto i nomi Dico spesso che quando noto le donne Per me loro hanno sempre una riserva speciale Perché appunto sono degli esseri speciali e hanno sempre un'altra attenzione Per me un'altra, come dico, un'altra e un'alta considerazione Proprio perché per me sono più importanti di noi Cioè non dico che non ci saremmo senza di loro e non saremmo nulla Però gran parte delle cose che siamo le dobbiamo alle donne A esistere certamente non esisteremo solo grazie a noi ma anche grazie alle donne E poi ovviamente per tutta una serie infinita di motivi Senza le donne il mondo non sarebbe il bel posto che è Diciamo se vogliamo guardarlo per la sua bellezza Perché ovviamente è anche ricco di bruttezze Ma come si dice in American Beauty Attraverso quella grande frase Grandissimo film ovviamente Il 99 di Sam Mendes C'è così tanta bellezza O del 2000, non ricordo Ma comunque dice A un certo punto nel film si dice C'è così tanta bellezza nel mondo Che non riesco ad accettarla E certamente questa bellezza se c'è E anche grazie a voi Care donne Quindi mando virtualmente un fiore Una mimosa a tutte Sì Se pensiamo che David Lynch Il maestro ha incentrato tutto il suo mondo Insomma in parte il suo mondo sulle donne Questo va attualmente a testimoniare Le belle parole che sto dicendo Le cose che sto dicendo Comunque non credo di star pensato ad altre cose L'altra cosa che volevo parlare Penso ne parlo domani a questo punto Per non associarla alle donne Perché è qualcosa di No spaventoso Ma meglio non associarla alle donne Meglio parlare direttamente domani È un film ma Non lo voglio associare alle donne Sì Poi non so se ci credete o meno Ma io penso di no Più così ma Che appunto Vrebbe essere festeggiato ogni giorno Questo giorno Ma come Preferisco evitare Diciamo Riscorsi retorici E quindi non dico più di tanto Altre cose Altrimenti finisco appunto Nella retorica di tutti A me non mi va Quindi dico Faccio semplicemente gli auguri E poi Oggi sarebbe anche il compleanno Il mio vecchio amico di università Che appunto feste C'hai anni lo stesso giorno La festa alle donne È il compleanno C'è l'età mia Quindi I would like to wish Also a very 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 Happy 57 Birthday To Gennaro Esposito Happy birthday Gennaro Have a great day again A domani Gennaro